Ancora un bagno di folla per la festa del perdono di Terra Nuova Braccioline che quest'anno ha spento 404 candeline, un'edizione record per la manifestazione con oltre 250 ambulanti e quali si sono unite le attività presenti, quelle della mostra mercato Vallarno Espone, toccando così gli oltre 700 espositori. Il paese valdarnese si è trasformato così per cinque giorni in una grande città invaso da 300.000 persone, provenienti da tutta la provincia di Arezzo e da parte della Toscana. A dare avvio all'edizione 404, come sempre l'apertura del Luna Park e la mostra mercato Vallarno Espone. Sabato è stato il turno della gara podistica Corri per Dono, della fiera dell'antiguariato e dell'artigianato, della manifestazione zootecnica ed infine della mostra campionaria. Domenica e lunedì restano comunque le giornate clou della manifestazione, che culmineranno con la 404esima fiera nazionale degli uccelli da richiamo e l'assegnazione del fischio d'oro 2018. La chermessa si chiuderà a martedì 26 settembre con la gara podistica Ruota d'Oro, il concerto della filarmonica Giuseppe Verdi e i tradizionali fuochi artificiali. Ci sono stati anche degli attimi concitati nel corso di questa edizione. Domenica mattina era infatti scattato l'allarme per un accoltellamento ai danni di un 29enne nigeriano, voce che aveva rischiato di provocare qualche attimo di tensione. In realtà si era invece trattato di un falso allarme. Il giovane era rimasto ferito nel tentativo di scappare dalle forze dell'ordine perché sorpreso con merce esposta contraffatta. L'uomo è stato a soccorso e suturato.